ciao a tutti sono che esperienza e oggi sono qui con xero ciao a tutti e lui è un grandissimo l'ho conosciuto tramite tano effettivamente è veramente forte anche una grande persona e poi anche se anche se è un piraccio di merda però vabbè questa ragazza è una nuke un po scialla nel senso ho voluto fare una nucleare tanto per introdurvi un po il mondo di mv2 in quanto questo è il mio primo video su mv2 nel mio canale e cercherò di fare una fast nuke però farò un fail assurdo perché con la c-130 poi vedrete a quanti kill mi fermerò e se con la c-130 andavo a segno facevo 25 kill di fila vabbè e durava pochissima partita mi sembra due minuti vabbè oggi sto dando m4 1 silenziato che è la mia arma preferita in mv2 poi la m4 1 poi sensatore non lo sai più poi sto usando sciacallo ninja pro e potere l'arresto per sempre clemore sordenti a te la tonalassa più piccola in mv2 diciamo cioè l'hanno più felita diciamo l'hmp perchè va sempre la più forte invece a prendere meglio le kill come c'è l'assalto direi a capo 47 perché anche dalla lunga distanza riesce a uccidere bene anche i tar 21 le maia c'è la roba e fa 21 sì tar mi piace questo iniziato anche se città è inflessibile proprio più muore avendo tanto danno sì sì infatti sono me l'arma più forte che ha più danno poi lo mp l'arma più forte perchè tu vai come le schegge con quell'arma anche se tu c'ha sciacallo va velocissimo e poi c'ha una mira di insomma una velocità di mira veramente incredibile proprio hai già la mira pronta e invece i tuoi perk preferiti e li sono? i tuoi uomini preferiti sciacallo via per le modalità dominio demolizione poi vabbè così d'arresto e comando perchè diciamo quando ti butti dall'alto comando per me è proprio un fattore chiave diciamo poi per altre modalità tipo c'è che distruggi maratone principiante ninja sembrano quasi d'obbligo diciamo intanto voi che ragazzi vedete che ho già fatto 5 kill allora eravo di nuovo in questa salettina dove ho fatto le prime due uccisioni in una prenderò subito Larry ovviamente incredibile e la mia squadra sta ovviamente distruggendo l'altra perchè siamo 65 per ora e nulla cioè veramente era partito con l'intenzione di fare una nucleare però non così veloce invece vabbè l'ho fatto comunque in 4 minuti penso che sia sempre un buon tempo e nulla però se la facevi in due minuti qualcosa era ancora più come si può dire più insomma mi colpivava di più via perchè parlando minuti nucleare è roba cioè roba è roba bene ecco così e nulla ragazzi voglio parlare velocemente un po' dei miei progetti e anche di me che ci serve a noi insomma all'intanto io ho deciso ma come ben sapete poi walkthrough di essere si iscrive ho già pronto molti infronti molti episodi e farò così una settimana caricherò i walkthrough una settimana caricherò i gameplay di code quindi almeno avete un canale alternato poi volevo annunciarvi di una cosa volevo annunciarvi di un nuovo clan che è risorto che è presente è il clan di strategico che l'ho deciso di fondarlo seriamente perchè il clan che prima strategia aveva che erano gli squad chiunque pota farsi l'account e chiunque pota aggare insieme a loro invece noi si è deciso di fare un clan privato dove sarà noi tra cui c'è anche xero effettivamente abbiamo fatto anche un canale youtube dove caricheremo ne so zombie zombie cooperati così cazzatevare su ascension boh cerchi e distruggi così te invece hai qualche progetto per il tuo canale perchè ragazzi anche lui c'è un canale youtube lo sapete nella mia subbox e descrizione canale sotto il video beh il mio canale diciamo non è ancora aperto però presto arriverò in gameplay per diciamo tutti cosa farò nel canale non vediamo neanche iscrivetevi perchè non ho un video ma spero in futuro da arrivare a un buon risultato vabbè ragazzi iscrivetevi però cioè lui dice così però iscrivetevi perchè cioè comunque sia un grande player voi non lo potete sapere ancora però veramente forte e quindi ne vale la pena appena metterò a video sono sicuro e farà botte di iscritti perchè se ne meriterebbe vabbè o poi anche quelle lì con come si dice su break hopes si possono registrare noi quindi spero proprio che prima di giugno potrà campare così insomma via eh un po' così la ha adesso diciamo vabbè nucleare tirato 133 a 13 l'ho chiamata in 4 minuti qualcosa mi sembra 33 1 niente male primo insomma tutti attivaranno 10 quindi l'ho massacrati tutti e nulla se i ragazzi c'ho anche la nucleare pronto con lo spazio spero che a un tot di mi piace la caricherò e nulla noi ci vediamo da 4 giorni circa 4 5 giorni non sicuro niente e vuoi fare salute vabbè salutiamo tutte le persone e ganja stefni grazie 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 a te nulla buone buone buone